Vanni Foros è il cuoco del ristorante Penalty Box di Windsor. Intanto non è italiano, allora perché noi andiamo a intervistare un cuoco che non è italiano? Perché oggi un alcamese ci ha portato qui in questo locale e veramente possiamo dire che abbiamo mangiato alla grande. Ed è una cucina molto interessante che è un incrocio fra la cucina siciliana e la cucina greca, eccezionale. Ecco a lui chiediamo intanto quando è venuto qui a Windsor. Quando è venuto a Windsor? È detto che è nato a Montreal nella parte del Quebec canadese, però è vissuto in Europa, in Grecia e poi è venuto in Canada quando aveva soltanto 12 anni. Ma qual è il trucco che tu usi per fare questo buon mangiare? Allora, tu fai un mangiare greco misto al canadese oppure soltanto greco? Il papà era cuoco, quindi lui ha imparato tantissimo dal papà e un po' l'ha imparato a spese personali. Noi vediamo il suo locale pieno di fotografie, di sport, ecco come mai questa grande passione verso lo sport, che poi infatti è uno sport principalmente canadese. Si dice che ha avuto la fortuna di essere circondato da tanti artisti e tanti talenti nel mondo sportivo che frequentano il suo locale, allora si è sentito obbligato a mostrare a tutta la città la sua passione per lo sport. Allora, per ultimo e poi naturalmente lo lasciamo perché devi andare a lavorare perché già vediamo che c'è molta gente che viene a consumare qui in questo tuo locale. Ecco, una ricetta particolare che tu potresti proporre a qualche buon alcamese che vorrebbe provare questa cucina tua. La sua specialità sono le costolette affumicate che ha imparato da amici del sud e siccome lui si è innamorato di queste costolette le ha fatte diventare una parte importante del menù del suo locale. Lui dice praticamente che il trucco sono gli aromi che usa invece del sale e poi usa il legno acero che ha anche un profumo che è molto prominente nei nostri locali e lo mette sotto cura per 3-4 ore. E poi dopo lo cucina e ti viene fuori quell'aroma dell'acero che è una cosa unica nella nostra zona. Una domanda provocatoria, sai fare pasta con l'aglio e l'olio? Con il pomodoro o con la moglie? Il dice che puoi fare pasta di amici di amici? Oh sì, perché i greci sono così, come gli italiani, con l'olio e l'olio e la amici di amici. E te l'ha insegnato? E chi pensi che dovessi fare questo? Per me, mio padre. L'hai imparato dal papà che è vissuto e cresciuto nella cucina. Grazie molto, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.